E avete gli sintantissimi Sinta in milioni Passa e patate con me Passa e patate con le Uah Hai scassato in mondo proprio Hai rotto Cioè la passa e patate con le patatine fritte La classica Per mangiare questa schifezza andiamo di freddo Sì Bravi Scassa tu Più rumori Così 45-47 minuti 45 minuti Al dente proprio queste patate Cioè fritte Una cosa Io vedo a tanti di fare video La pulizia di qua 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 I guanti strappati Rotti Guarda là Certo ma pure questo gile mimetico Ma le teste di cuoio Spolchiamo un po' nel lato Non mettete L'olio per spolcare il lato Silicone No Il silicone no Io al massimo metto poco di pesce Guardate Poi lo mettete E così rimane fermo Bellissimo Ah mamma mia Sono passati 45 minuti Ah là la palude 45 minuti Che facciamo Frulliamo Ma bello questo frullatore Immersione Della seconda guerra mondiale Ho della guerra del Vietnam Sono indeciso Sì ma non hai tutti i fuochi accesi Stiamo facendo una pasta e patate Campana Originella Classica Come le patate Sì Fidati Tutti i campani Eh bravo bravo Anche la pasta abomitata Abbondata Ma come mi piace Sempre tostato romano Campano Toc Tossato romano Campano Ma pizzico abbondato Che hai messo Che schifo Tu che hai messo I capoli Alla farina E' messo Quella non fa proprio i grumi Guarda se la metti a caldo Eh In questi casi C'è il mini pimer E ci viene Sì C'è il mini pimer Ordigno bellico Guardate qua ragazzi Adesso vengono gli artificieri A disinnescarlo Sì No No Quando ma Buttiamo Buttiamolo po' Sempre per otto persone Guarda quella pozza Pozza di vomito Che bolla No Chi la tocca La panna Sì 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 Facciamo il riposato Brava Anche il cartone Con la cucchiarella dentro Non la tocca Assolutamente Con la cucchiarella Quella in legno Betulla Dai il sapore di betulla Quattro minuto La patata che bolla La patata che bolla Mi raccomando Mi raccomando Sì No Non di più Perfetto Ma io voglio questa tua mimetica Comunque Non girate Perché deve riposare No 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 A noi ci gira solo lo stomaco Non giriamo niente Romano campano Non si capisce Impiattamento Vai Sempre gourmet Certo Guarda là Guarda là Vomito di patate E che cos'è? Andiamo a formare Una croce Una croce Certo Perché noi ci sentiamo In croce Probe Cioè Sì Sinceramente Croce e delizia No Croce e schifezza Qua Tutto è iniziato Il big bang Dello schifo Guarda Cuglionina di basilico Per guarnizione Ah così è basilico Anche qua È del 1960 Dal museo Dello schifo Dello schifo